E' un po' stralurata, scherzamente inserita. Io qui ho già capito tutto. Ho staccato i cavi delle altre telecamere lasciando inserita solo questa. Il cameraman è un amico mio. Finalmente potrò parlare quanto voglio. Erano mesi, mesi che aspettavo, che scogitavo il sistema di perforare la barriera della Rai TV. Poi ho visto passare queste quattro pazze scatenate con tanto dei cartelli e dei fischietti che mi sono detta. Allora da, è qui se non ti infili nel corteo di proteste e qua non buchi. Comunque, comunque, è l'importante che ora sia riuscita a infilarmi qui e che abbia una telecamera tutta per me, tutta mia. Tocca a te, canta, tocca a te, balla, Loretana, balla, non ti fa pregare. Forza, cosa aspetti su, forza, non ti devi far pregare. Forza, faccia tosta, fai presto, su, parlaci di te. Ho la mia testa, ho il cervello, ho le orecchie, i capelli, ho i miei occhi, il mio nodo, la mia bocca, ho tutti i denti. Ho la mia lingua, anche il mento, ho il mio collo, il mio seno, ho il mio cuore, la mia schiena, un ombelico, ho tutto qui. Mia son le braccia, miele mani, miele dita, miele gambe, miei piedi, miele ucchie, mio il pancreas, mio il sangue, ho la forza, ho la vita, ho la vita, 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 vita. Mia son le braccia, miele gambe, miele gambe, miele gambe, miele gambe, miele gambe. Mia son le braccia, miele gambe, miele gambe, miele gambe, miele gambe.